E attenzione perché questo è il clamoroso ingresso di death della morte La morte sta giungendo sul ring E quando giunge sul ring per un annuncio Significa che sono guai amari per qualcuno Eh si, sono cavolacci adesso Non sappiamo perché, ricordiamo che a Blastemania Ryman è stato devastato, fatto fuori, eliminato Da quest'uomo Eh uomo, se uomo si parla, se di uomo si parla Perché questo è tutto dranne con un uomo, death della morte Ora chissà con chi ce l'avrà Staremo a vedere tra qualche istante Eh già A Blastemania ho sconfitto e eliminato una volta per tutti Ryman Ma Backlash, ti sfido Thor In un inferno match Eh attenzione, è proprio Thor questo che sta fallendo Zongress E quindi Death lancia la sfida contro Thor Inferno match da Backlash ragazzi E se ne dà la due santa ragione Eh una grande scazzottata per entrambi Vediamo che è la meglio, sembra avere la meglio Eh death, attenzione, Thor sta arretrando pericolosamente E death è più potente sotto questo profilo Attenzione, Thor cerca di reagire Niente a fare, niente a fare Death, la lontana, attenzione Brutta, brutta posizione Death cosa fa? Thor sta cadendo Death spea Nooo Incredibile Impressionante quello che è successo